Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi vi presento, come avrete letto dal titolo, un tutorial Sapete che non sono un'esperta, non sono una make-up artist Però mi arrangio, mi piace, come mi trucco Quindi volevo condividere questa cosa con me, come sapete E niente, oggi ho realizzato un trucco primaverile In collaborazione con Sofia, troverete il suo canale giù nel box informazioni E niente, questo è un video in collaborazione con lei E nel suo canale troverete un video con un outfit che sta bene appunto con questo trucco Quindi niente, io spero vi piaccia questo tutorial e ci vediamo dopo Ciao a tutti 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 Ciao a tutti